Quattro partite per vedere sin dove può arrivare il Bari al termine del girone d'andata. Era questo il pensiero espresso da Davide Nicola prima della gara contro il Cittadella. La vittoria in Veneto e il bis di sabato scorso contro il Latina, sempre decise da Minala, nuovo idolo della tifoseria bianco-rossa, hanno permesso di compiere metà di quel percorso tracciato da Nicola con il pieno di punti e un rinnovato ottimismo. Realizzare l'amplen di successi domani a Brescia e domenica prossima contro lo Spezia e il più ottimistico dei pensieri tra i bianco-rossi, che non disdagnerebbero anche due risultati positivi e quattro punti in questo rush finale del girone d'andata. Una mini-tabella di marcia alla quale si guarda con ottimismo proprio alla luce delle ultime due vittorie. Il Bari ha ritrovato compattezza in difesa, il segnale è il non aver subito reti contro Cittadella e Latina, ma dovrebbe diventare più prolifico in attacco. Va detto che i segnali anche in questa direzione sono incoraggianti. Oltre a Minala c'è De Luca in netta risalita nelle gerarchie del reparto avanzato dopo una prima parte di stagione sotto pressione e con poche soddisfazioni con Mangia in panchina. Proprio l'attaccante ex Varese, tra i migliori contro il Latina, domani pomeriggio potrebbe partire titolare a Brescia, affiancando Caputo così da spingere Galano nuovamente in panchina. L'uomo del momento è ovviamente Minala, altro titolare inamovibile per la trasferta in Lombardia. Qualche scelta in più Nicola l'avrà a disposizione per la difesa con il recupero di Ligi e a centrocampo dove torna anche Donati. Gli impegni ravvicinati, come detto dopo la partita di domani si torna in campo domenica alle 12.30 contro lo Spezia al San Nicola, potrebbero suggerire un moderato turnover. Fare punti in queste ultime due gali del 2014 è prioritario anche in vista del mercato di riparazione del Bari.